Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 53esimo episodio, è una scioglilingua praticamente, della nostra serie con la Roma nella Master League Suisse Pro Evolution 2. Signori, allora veniamo da un filotto di vittorie veramente importanti, ma la più importante è stata nello scorso video dove abbiamo battuto la Lazio, sconto diretto nel derby, e ci siamo portati a più 6 sulla seconda in classifica. Detto questo, signori, io vi ringrazio sempre per tutti i like, per i commenti presenti e per il supporto che date a serie e a canale. Io mi sono letto piano piano durante la settimana i vari commenti che mi avete lasciato e mi avete dato dei suggerimenti per eventualmente qualche acquisto. Allora, andiamo a vedere i due o tre nomi che mi avete suggerito. Allora, mi avete suggerito intanto Saviola, che potrebbe essere un giocatore interessante. Saviola, costa 36, noi abbiamo 57 punti, se ne possiamo comprare il mondo. Allora, che potremmo effettivamente provarlo al posto di Stoikavic, o comunque farlo rifiatare. E non ha delle brutte statistiche, sicuramente è più veloce, praticamente, di Stoikavic. Lo potremmo valutare un attimino. Abbiamo parlato anche di Gheorgatos, che anch'io sono stato scioccato, praticamente, dal buon Gheorgatos, che non c'è in campo. Pondocazza la sta Gheorgatos, che però me lo aspettavo decisamente meglio. E poi, signori, Desailly, vabbè, ma Desailly, che dovrebbe essere nel Cels, se non ricordo male, Desailly. Desailly, eh, come difensore centrale, se a noi, se la giocherebbe un po' più forte di Valeri. Vediamo, pari punti, eh, sì, desideramente meglio di Valeri. Però mi ispira Saviola, signori, sono sincero, mi ispira Saviola, mi avete convinto con Saviola. Spendiamoci questi soldi, chi se ne frega. Eh, sì, portiamoci l'Argentina a casa. A posto di chi? Eh, questa è una bella domanda. Ehm, Juggens, sei stato nominato. Ciao Juggens, è stato un piacere averti in squadra, non so chi cazzo la fossi, non hai mai giocato. Però, eh, va bene così, va bene così. Hai avuto della fiducia che non hai saputo sfruttare. Detto questo, signori, procediamo con l'incontro di oggi. E vediamo un attimino che succede, che succede. Allora, io la formazione non ce l'ho salvata, minimamente. Quindi, ora, dobbiamo andare un attimino a ricostruire tutto quanto quello che c'era da fare. E' bello che io non gioco da un bel po', quindi devo un attimino... Se metto utente, c'è qualcosa? Ehm, sì, sì. Dobbiamo modificare questa. Intanto partiamo tutti quanti un pelino più avanti, come facciamo noi di solito. Ok, poi gli esterni li mettiamo largo così e tutto avanti. E Spimas largo e tutto avanti. Così, perfetto. Miranda se non ricordo male è al massimo. E Castello lo mettiamo un pochino più indietro. Perfetto. Ehm, andiamo a cambiare i giocatori, che poi non sono giocatori, sono tutta la rosa, praticamente. Allora, Giorny deve stare... Giorny a posto di Semau. Ok, Spimas per Babangida. Totti lo mettiamo a posto di Castello. A posto di Miranda gioca Saviola, signori. Lo proviamo. Kostokavic è pronto a entrare nel secondo tempo. Davids entra per Cellini. Ok. Giorga sulla destra, fuori per Cafu. Turam. Ah, Turam non c'è. Azzarola. 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 Valeri. Eh, Semau. Allora, facciamolo sì. Valeri Stromer, per forza. Semau sulla sinistra. Cafu sulla destra. Davids. Mediano. Giorny sulla sinistra. Babangida sulla destra. Saviola trequartista. Totti. Henri. Va bene, signori. Tentiamo così. Tentiamo la sorte. Contro chi cazzo la giochiamo? Contro il bar di Monaco. Porca miseria. Altra partitona. Forse che non conveniva fare esperimenti in questa partitona. Però facciamo di fare un tempo. Un tempo a Stokavic. Un tempo a Saviola. O meglio, al contrario, a Saviola un tempo a Stokavic. Vediamo se l'acquisto argentino... Già, già, già è più veloce. Già questa cosa mi ispira di più. Bravissimo, Babangida, che crea lo spazio per Cafu. Cafu, 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 Cafu. Cafu. Dal nulla. Tentere cross. Non ci arriva. Non ci arriva Henri. Partiamo bene. Partiamo bene. Noi di solito quando partiamo bene poi finisce male. Quando noi partiamo bene poi finisce... Grandissimo, Valeri, signori. Valeri. Saviola. 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 Pronto a rubare il posto. Pronto a rubare il posto a Stokavic. Grandissimo, Totti per giorni. Totti per giorni. Giorni. Mannaggia. No, Totti mio. Troppo aggressivo, Totti. Totti troppo aggressivo. Dopo quattro minuti, subito così. No, 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 no. E spigliano, mannaggia a te. Mannaggia a te. Attenzione, signori, attenzione. Concentrati. Concentrati che loro hanno il capocannoniere del... In attacco hanno il capocannoniere del campionato. E che dovrebbe essere Elber. Gioco, gioco alla piano. Bravissimo. Giochiamola lì. Giochiamola di Stromer. Stromer cerca Cafu. Cafu cerca il Bamba. Bamba che taglia. Bamba che taglia. Il vede il movimento. Bellissimo. Dio, orri, che è lento. È lento. Orri, orri. Ci fosse stato Ronaldo lì, signore. Ci fosse stato Ronaldo. Ma neanche gli dava il tempo di ragione. Grandissimo Saviola. No, ho ritardato. Due secondi ho ritardato. Porca miseria. Li sarà su contro Stormer. Li sarà su contro Stormer. Li sarà su. Ma quando la pigli più? Ma quando la pigli più? Attenzione, questa Roma che oramai ci crede, signori. Cafu. Cafu per il Bamba. Il Bamba per Henry. Ari, 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 Ari. Vede il movimento di Cafu. Però se Ari è di lato, al centro non c'è nessuno. Ma guadagniamo un calcio d'angolo che va bene lo stesso. Alla battuta Saviola, Saviola. Babagita si gira. Babagita si gira. Non ci pensa due volte, signori. Mamma mia, il Bamba. Che ritorna al gol. Porca miseria, il Bamba cosa fa. Come l'ha piazzato il Bamba. Incredibile. Incredibile. Dritto per dritto, eh, l'Ikan, solo se era Superman ci arrivava l'Ikan. Super Khan doveva essere, ma non c'è arrivato. Grandissimo. Totti, tutti. Mamma mia, che brutto fallo. Dall'ultimo uomo. Questo è il rosso diretto. Ah, giallo. Ma era da rosso diretto. Saviola. Attenzione. Attenzione, Saviola. Ci proverà da lì? Per forza, signore. Ci proviamo. La palla finisce sulla barriera, mannaggia. Eh, vabbè. Lì con Saviola, uno che sapeva tirare punizione, la buttava dentro. Saviola? No, mannaggia. Signori, Saviola mi piace. Saviola sullo spazio si muove bene. Porca miseria. Baban Gita, Baban Gita, Baban Gita, Baban Gita, Baban Gita, Baban Gita, dalla tre quarti. Tenta il traversone per Totti. Che però è marcato. Davids di testa. Cerca Giornì. Pallone rubato. Giornì si fa rubare un pallone. Semau, Semau. Semau che è sparito un po' oramai dai nostri radar. Semau. Da, 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 da vendere subito. No, no, cazzo lo stiamo a fare. Cazzo, che cosa sono queste cose? Che cosa sono questi? Uff, va bene, Stromer, con calma. Mamma mia, siamo stati fortunati, signori. Santo palo. Il palo ci ha salvato, signori. Il palo ci ha salvato, ma non siamo, ma non siamo bravi a capirlo. Però ripartiamo con Baban Gita. Ripartiamo con Baban Gita. Ripartiamo con Baban Gita che cerca Arry. Arry, 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 arry. Annaggia, 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 annaggia. Niente, a centrocampo non riusciamo a tenere un pallone, signori. Centro, no, 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 Stromer, 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 ritorno. Grandissimo Stromer. Grande recupero difensivo di Stromer. Grandissimo recupero difensivo di Stromer. Attenzione, Cafu. Cerca, 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 cerca Saviola. Saviola che cerca Arry. Arry che è di prova. Ci prova subito. Guadagniamo un altro calcio d'angolo. Attenzione, Saviola ancora. Saviola con la numero nove. Saviola, no, Baban Gita si fa rubare il pallone. Giustamente, il giocatore del Bayern dice, ci siamo passati prima. Due volte la stessa situazione. Grandissimo Cafu. Pendolino Cafu è tornato. Totti, Totti. Cerca Saviola. Il due, il due. Saviola lancia il Bamba. Che ci prova subito a buttarla dentro. Eh, vabbè, Daviz che salta di testa, signori, è una barzelletta. Arry, 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 arry. Eh, giustamente, non ci sta nessuno lì. Toccalo, toccalo, toccalo. Ora qualcuno mi dice che mi ha fatto a salvarla. Se ero io l'avrei buttata fuori, praticamente. Daviz, Daviz, capitano di questa squadra. Saviola, 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 Saviola. Grandissimo Saviola nello stretto. Ma porca miseria. Ma porca miseria. Attenzione. Non so se è stato voluto o siamo stati bravi noi. Semau, 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 Semau. Cerca Jorni. Jorni, 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 Jorni per Saviola. Saviola, Saviola, Saviola. Daviz, Daviz, Daviz Stromer. Buono il gioco di squadra, mannaggia. Ecco, lo sapevo di grandissimo Valery. Meno male che abbiamo una veloce in difesa. Meno male che Valery è veloce. Sì, nel Valery comunque da difensore centrale, ribadisco sempre le stesse cose. Ma è tutto... No, mannaggia. Daviz, Daviz. Va bene, Daviz. Per Cafu. Cafu per Daviz. Daviz ancora per Cafu. Cafu, 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 Cafu. Saviola. Saviola si fa vedere ovunque, signori. Saviola è onnipresente, Saviola. Che cerca il traversone per Totti che si fa anticipare. Daviz, mannaggia. Tieno lì, tieno lì, tieno lì. Grandissimo Babangida. Evita anche la rimessa laterale. Una Roma che combatte su tutti i palloni. Attenzione. Totti... Porca miseria, se Totti riusciva. Babangida, appena arri, 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 arri. Che cerca Saviola. Che si crea lo spazio. Saviola cosa si è mangiato, signori. Saviola ancora si... No, mannaggia. Mannaggia, signori. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Mannaggia, 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 mannaggia. Formazione. Facciamo un tentativo. Rischio, rischio. Allora, proviamo a... No, Saviola mi sta piacendo tanto, signore. Saviola mi sta piacendo tanto. Non facciamo niente. Stagavic mi sa che il campo non lo vede più. Ho una brutta sensazione, signori. Ho una brutta sensazione che Stagavic il campo non lo vede più. Grandissimo e recupero di Totti. Totti per Saviola. Saviola per Totti. No, stavo lanciando giorni. No, 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 no. Valeri, Valeri contro Polo, Sergio. Valeri contro Polo, Sergio. Valeri contro Polo, Sergio. Attenzione. Valeri tenta il recupero. Dai, che dirà. Porca miseria. Ma cazzo, l'hanno segnato. Totti, 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 giorni. Giorni. Se hai creato lo spazio, è grande. Giorni nell'accelerazione. Giorni, 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 giorni. Per Saviola. Che inguata la porta. Ma porca. Bello, era bello. Se l'ha fatto trovare nel punto giusto. Cazzo, l'ho di una miseria, però. E dai. Come ce l'hanno pareggiata. Mannaggia. Oh, addirittura. Questi giocano con i pallonetti, addirittura. Calma. Totti, grandissimi recupero di pallone. Totti, tutti, 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 tutti. Totti che cerca Giorni. Che c'ha lo spazio. Bravissimo. Totti a vedere l'avanzato in profondità di Giorni. Che poi... No. Io devo smetterla di cercare per forza il passaggio. Se Mau. Se Mau. Per forza il passaggio. Saviola, 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 Saviola. Saviola, grandissima. L'apertura per il Bamba. Che rientra. Il Bamba. Porca miseria. Davids, Davids, Davids. Grandissimo. Cafu. Che la tiene lì. Saviola, Cafu. Cafu. No. Babangita mio. Babangita mio. Grandissima. Per il recupero di Palla della Roma. Grandissima. Ricopro di Palla della Roma. Per Harry. Non riusciamo. Non riusciamo. Non riusciamo. Davids. Bravissimo. Uno sacco di testa per creare lo spazio. Babangita. 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 Si è creato lo spazio. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Ancora su quella fascia. Babangita. 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 Riesce a girare. No. Ma dai però. Che sfortuna. Che sfortuna. Porca miseria. Che sfortuna. Babangita. Grandissima. Il recupero. Spalletta regolare. Per Davids. Davids per Giorny. Giorny per Totti. Do sta Semau. Semau. Grandissima. Per l'accelazione di Semau. Che riesce a... No. Semau mio. Sto Semau mio. Attenzione. Che qua non abbiamo più difensori. centrali signori. Non abbiamo più difensori. Ok. Ok. Calma. 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 Ok. Questi fanno la stessa azione di prima. Evita. 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 Se la loro riusciva a prenderla. Se la loro riusciva a prenderla. Cosa ci siamo mangiati signori. Cosa ci siamo mangiati. Di tutto ci siamo mangiati. Saviola. Saviola. Pallone a terra. Saviola. 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 Tiene fisicamente Saviola. Saviola. Tiene sicilamente e lancia tutti. Il ventisesimo. Il ventisesimo. Loro sono in confusione. Cioè noi attacchiamo in una maniera impressionante. Totti. 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 Per Saviola. 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 Accelera. Saviola. Saviola. Lasagna lui. Saviola. Come era soprannominato Saviola? Signori. Qualcuno me lo scrive nei commenti. Aveva un soprannove Saviola. Ma non me lo ricordo. Voto mentale in questo momento. Golla all'esordio. E risultato sul 2-1. Roma in. Roma. Roma. Decisamente in. In possesso della partita. In comando della partita. Guarda con chi. Guarda con chi stavo a pareggiare. Signori. E questi hanno il capocannoniere. Fuori Elber. No. Hanno sillurato Elber. Il capocannoniere del campionato. No. Babangita. E' naggia. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io. Ma Babangita. Babangita non demorde. Babangita non demorde. Torna solo quel pallone. Lo riconquista. E la passa a Saviola. 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 Se ancora si è creato lo spazio. Saviola. 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 Ma porca miseria. Non ho visto. Non ho guardato il radar. Questa volta lo ammetto. Non ho guardato il radar. Tutti. 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 Per Saviola. No. Saviola. No. Sono attenuto fisicamente Saviola. Vedevo che Totti era completamente libero. L'avrei mandato subito in profondità. Babangita. Babangita per Cafu. Cafu per Harry. 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 Grandissimo. L'apertura per Bamba. L'apertura per il Bamba. Che ries... No. Non riusciamo a chiudere la partita, signori. Questa è la cosa che era... No, 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 no. Valeri, valeri, valeri. Su Paolo Sergio. Piglia, la piglia. No. Gli abbiamo regalato un calciotangolo al trentottesimo. Gli abbiamo regalato un calciotangolo al trentottesimo. Bene così. Ho avuto paura che... No, no, no. Mamma mia. Non so chi che l'ha presa di petto, ma va bene così. Ecco, l'unico problema effettivamente è quello che... che mi avete scritto nei commenti, signori, che Saviola è piccolino. Quindi effettivamente sui calciotangolo dobbiamo stare molto attenti perché perdiamo... No! Signori, evitiamo che la crossano, evitiamo che la crossano... Grandissimo, valeri, palla ancora per Saviola. Saviola, 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 Saviola. Saviola, Saviola, Saviola. Totti, che lancia giorni, che ci arriva giorni, 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 giorni. Però non arriva a crossarla al momento giusto. Buono così, Deviz. Deviz per Semau, che lancia subito i giorni. Che in velocità batte il giocatore del Borussia del Bayern di Monaco. La mette al centro per Henry. Saviola, riconquista il pallone. Saviola, Saviola, Saviola. Porca miseria, signori. Partita da 10 per Saviola. Babagida. Saviola, Saviola, Saviola. Si gira. Ci prova da fuori. Il pallone è deviato. Attenzione, attenzione. Henry. No. Ma finisce qui, signori. Roma batte. Bayern di Monaco. 2 a 1. Vantaggio della Roma con Babagida. La pareggia. Il Bayern. Non mi ricordo con chi. 10 tiri a 7. Tanta roba. Intanto questa è la Marsiglia. Real Madrid 2 a 2. Inter 1. Leeds 4. Mizzega. Milan 3. Lazio 1, signori. La Lazio perde contro il Milan. Noi battiamo il Bayern di Monaco. E saliamo. Oramai è scudetto, signori. Chelsea 0. Barcelona 4. Torino 0. Manchester 4. Leverkusen 1. Dortmund 3. Grande vittoria del Dortmund. E Buenos Aires. Orfano di Saviola. Batte il Valencia. 1 a 0, signori. Saviola per Babagida. Totti per Saviola, signori. Un gol e un assist per Saviola. Ottimo esordio. Ottimo esordio. A noi sta di lusso. A noi sta benissimo così. Sta benissimo così. Bella la prestazione di Saviola. che ci riporta a 30 punti per fare futuri acquisti. E saliamo. Sì, signori. Siamo a 9 punti sulla Lazio che è seconda. Perché la Lazio ha perso e ne abbiamo battuto il Bayern di Monaco. Saliamo a 54 punti. In tutto questo mancano, per la precisione, 1, 2, 3, 5 partite contro Borussia Dortmund, Barcellona, Leeds, Valencia e Manchester City. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao.